Il balzo in avanti è evidente ed anche significativo in termini numerici. L'emergenza Covid e l'irruzione della nuova variante Omicron fanno lievitare i contagi in Capitanata e le ospedalizzazioni conseguenti l'aumento delle infezioni. A Dorsara il sindaco Tommaso Lecce ha scelto di procedere ad uno screening di massa tra la popolazione con il risultato di accertare, sia pure attraverso lo strumento del tampone antigenico, che il numero dei positivi è passato da 14 a 43 unità. Casi di contagio probabilmente destinati ad aumentare ulteriormente e per i quali comunque servirà la conferma dei tamponi molecolari dell'ASL. Mentre a Cerignola i positivi hanno toccato quota 1.048 e a Manfredoni a 591 con 60 persone poste in quarantena. Una recrudescenza, come detto, che incide anche sul tasso di ospedalizzazione. Al Policlinico Riuniti in una sola settimana il numero dei ricoveri è aumentato di 29 pazienti, arrivando ieri a toccare quota 79. Un dato che probabilmente potrebbe mettere in difficoltà il Policlinico, da settembre unica struttura covid della Capitanata e soprattutto l'attività del pronto soccorso, come noto, in una condizione di drammatica carenza di medici. Numeri importanti e preoccupanti, insomma, anche se rapportati allo stesso periodo dello scorso anno, in flessione. Il 5 gennaio del 2021, infatti, i pazienti covid ricoverati risultavano 173, nonostante le misure restrittive all'ora vigenti ed il fatto che in quel momento i positivi al covid venissero ricoverati anche presso gli ospedali dell'ASL e presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Inoltre, va considerato che ad oggi dei 9 pazienti ricoverati in rianimazione, 5 non sono vaccinati e 4 risultano vaccinati con doppia dose, con necessità di ricovero in reparto intensivo per comorbilità pregresse. Dunque, il 100% dei ricoverati in terapia intensiva con sintomi riferibili al covid risultano vaccinati. In valore assoluto, quindi, un calo frutto innanzitutto della pressante e crescente campagna vaccinale, che sino ad oggi ha visto somministrare in Capitanata 1.148.993 dosi di vaccino. Anche oggi, nel giorno dell'Epifania, tante famiglie qui alla Fiera Lab Vaccinale per vaccinare i bimbi in età pediatrica. La Puglia si conferma tra le prime regioni in Italia per vaccinazione ai bimbi più piccoli. Abbiamo chiesto però ai genitori cosa ne pensano e come è andata. Vediamo un po'. Avete fatto il vaccino? Sì. Come è andata? E dovete chiedere a lui? È andata bene? Sì, è andata bene. Sei contenta di averlo fatto? Sì. Avete paura del covid ancora? No. Abbiamo una terza dose, quindi no. Fare il vaccino anche voi? Certo. Una cosa giusta per i bimbi? Per noi è essenziale. Se tutti facessero questo probabilmente non arriveremmo al punto che siamo. Cosa dice vostra figlia? Mia nipote. No, non è molto... Vabbè, è normale i vaccini, però all'uscita poi vedremo la differenza. Al momento è tutto bello. L'albenizzazione buona dentro? Sì, sì, abbastanza, abbastanza concisi, precise e tutto. Che dicono i bimbi? Al momento stanno bene. Speriamo che rimanga così. In realtà il pediatra ci ha consigliato bene, quindi anche loro si sono fidati. Poi la cosa bella con i clown therapy è stato bellissimo. Quindi anche per alleggeria un po'. Sì, anche per alleggeria la paura, il timore, però è stato bellissimo. Ci vorrebbe anche per gli adulti la terapia con i clown therapy. Il lungo silenzio degli ultimi giorni con relative polemiche è stato rotto con un post su Facebook. Nella città di Cerignola sono 704 gli attualmente positivi al covid. Il dato si riferisce alla giornata di martedì. 101 le persone in quarantena, mentre non si registrano ricoveri nella terapia intensiva dell'ospedale Tatarella. Dati che spengono in parte le critiche, mosse soprattutto dalle forze d'opposizione all'amministrazione Bonito sulla gestione della comunicazione in questa fase critica della pandemia. Numeri che, a giudizio dell'amministrazione comunale, servono per rendere trasparente la situazione ed evitare allarmismi e forme esasperate di preoccupazione fomentate da altre fonti, aggiungono da Palazzo di Città. La situazione però resta d'allerta e in città si è tornati ad effettuare la sanificazione delle strade e delle piazze principali, come accadeva in occasione del primo lockdown del marzo del 2020. Operazione realizzata a titolo completamente gratuito su iniziativa del gruppo politico Puglia Popolare del referente cittadino Claudio Di Lernia. Trattori e automizzatori hanno provveduto alla sanificazione davanti a supermercati, farmacie, chiese e piazze cittadine, ricevendo il ringraziamento da parte del sindaco Francesco Bonito. Iniziativa meritoria l'hanno anche definita gli esponenti di Fratelli d'Italia, che però avevano chiesto nei giorni scorsi all'amministrazione comunale di riattivare il centro operativo comunale e soprattutto rompere il silenzio sul dato dei contagi, come avvenuto solo nella giornata di martedì. Il GIP del Tribunale di Foggia ha revocato la misura cautelare dell'obbligo di firma nei confronti di Salva Livrerio Bisceglia, l'imprenditrice agricola e moglie dell'ex capo del Dipartimento della Libertà Civile dell'Immigrazione Michele Di Bari, perché sono venute meno le esigenze cautelari, ma non perché sia mutato il quadro indiziare nei suoi confronti. Lo ha precisato in una nota stampa alla Procura di Foggia, che ritiene necessario chiarire alcuni elementi per consentire un'informazione corretta sul procedimento. L'imprenditrice foggiana, lo ricordiamo, è indagata con altre 15 persone in un'operazione anticaporalato messa a segno dai carabinieri il 10 dicembre scorso. La Procura di Foggia, nella nota firma del procuratore capo Ludovico Vaccaro, spiega che il GIP ha disposto la revoca dell'obbligo di dimori di firma, poiché ha ritenuto non più sussistenti le esigenze cautelari, anche in considerazione dello stato di incensuratezza dell'indagata e del comportamento processuale dell'imprenditrice. Stesso GIP continua a chiarire ancora la Procura, che ha però espressamente affermato che anche all'esito dell'interrogatorio di garanzia, il quadro indiziare non risulta mutato ed anzi per certi versi può ritenersi confermato. La Procura Foggiana spiega ancora che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l'indagata non può essere considerata colpevole fino alla condanna definitiva. Lo scontro è cominciato, il Partito Democratico a Palazzo Dogana continua il suo attacco al presidente Nicola Gatta. La materia della polemica è ancora l'approvazione del bilancio consuntivo, licenziato con i voti di soli 5 consiglieri su 12, ma è evidente che si tratta delle prove generali della contesa elettorale del prossimo 30 gennaio, quando sarà rinnovata l'assemblea consigliare di Piazza 20 Settembre. Domenica e lunedì saranno presentate le liste ed in queste ore sono in pieno svolgimento le grandi manovre per la loro composizione e per la definizione del perimetro delle alleanze a sostegno e in contrapposizione al sindaco di Candela. In campo di sicuro ci sarà la lista DEM, come è certo, che sarà depositata una lista espressione del governatore della Puglia Michele Emiliano. Entrambe lavorano per impedire al presidente della provincia in carica di ottenere una riconferma. L'avvicinamento di Gatta al presidente della regione, ipotesi circolata nelle ultime ore, sarebbe stata dunque fermata. Probabilmente anche da chi avrebbe fatto notare come il presidente della provincia alle ultime elezioni regionali abbia fatto una chiara scelta di campo, sostenendo il candidato governatore del centrodestra, Raffaele Fitto. E proprio il centrodestra appare in forte difficoltà. La formula del voto riservato a sindaci e consiglieri comunali e la modalità del voto ponderato, cioè con ciascun voto dal valore proporzionale alle dimensioni del comune in cui si ricopre il ruolo di amministratore, mettono Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia in una condizione di minoranza. Fatta eccezione per Manfredonia e con lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di Foggia, infatti, il centrodestra e all'opposizione praticamente in tutti i centri più grandi della provincia, quindi in tutti i comuni che pesano di più dal punto di vista elettorale. Ad ogni buon conto, la coalizione di Meloni, Salvini e Berlusconi sta cercando comunque di presentare almeno due liste. Una sarà sicuramente targata Forza Italia, l'altra, secondo indiscrezioni, sarebbe promossa dal consigliere regionale Paolo Dell'Erba. Mentre resta l'incognita sulla capacità di allestire le liste e soprattutto di raccogliere le firme necessarie al loro deposito per Lega e Fratelli d'Italia. Come pare stia incontrando più di una difficoltà la definizione di una lista del presidente, quindi riconducibile direttamente a gatta. Tutti passaggi fondamentali, perché alla composizione del nuovo consiglio provinciale è legata la figura di chi guiderà l'ente di piazza 20 settembre, in carico per il quale, in caso di vittoria del centro-sinistra, è in pole position il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, con una parte dell'alleanza giallorossa però che non disdegnerebbe la possibilità che a sedere sulla poltrona più importante di Palazzo Dogana fosse invece il primo cittadino di Cerignola, Francesco Bonito. Andrea Castriotta, presidente dell'Associazione Sobellicos, Stappiamo a Foggia, un'iniziativa che sensibilizza contro lo sperico della plastica ma anche l'uso corretto. Sì, esattamente. L'iniziativa è nata a fine novembre e appunto vuole sensibilizzare tutte le persone, soprattutto i più giovani, a moderare l'utilizzo della plastica. Sostanzialmente noi ritiriamo i tappi di plastica e assimilati e li conferiamo a un'azienda di riciclo, la quale in base alle tonnellate che conferiremo ci darà un piccolo contributo e noi questo contributo lo devolveremo per acquistare alberi a Foggia e nei comuni che ci stanno sostenendo. Com'è la risposta finora? La risposta è fantastica. Veramente io e Claudio facciamo un po' fatica a stare dietro a tutti, però ce la stiamo mettendo tutta. Siamo contenti che le scuole, le parrocchie ci stanno dando una grande mano. Questo è il risultato dei tappi di plastica, ossia vengono triturati dopo il lavaggio e appunto vengono sminuzzati in questi granuli. Da qui nasce appunto il progetto della circolarità, secondo la quale poi verranno fusi e con i polimeri verranno creati nuovi oggetti. Di solito panchine per esterni o le cassette dell'ortofrutta di plastica e quant'altro. Il nome di questa associazione richiama un intercalare foggiano, no? Sono belle cose, si intende appunto sono belle cose. Ecco, quali sono le belle cose di questa associazione e quali belle cose voi potete avere a Foggia? Sì, questo è un intercalare che io e insomma tutti gli amici dell'associazione utilizziamo, che abbiamo davvero nelle vene. L'intento principale dell'associazione era quello di valorizzare le belle cose che ci sono nel territorio e io credo che ce ne sono tantissime. Speriamo che questa possa essere la prima di una lunga serie di eventi. Sicuramente a settembre inaugureremo la prima tappa di blogging, che è una raccolta di rifiuti durante una camminata ecosolidale. A presto, o meglio a breve, daremo ulteriori informazioni. Francesco a Foggia, la Befana è arrivata, arriva in motocicletta? La Befana è scesa di notte su due ruote, per essere preciso e per riuscire a mantenere una sorta di rima con la filastrocca famosa. Adesso qui da Foggia si muoverà per andare a consegnare i doni alle associazioni che abbiamo scelto, preferito in questa circostanza per consegnare dei giochi, dei piccoli pensierini ai bambini ricoverati, ma in particolar modo andare ad omaggiare e ad accendere un faro su associazioni come il Filo del Sorriso di Foggia, che si preoccupano di clown therapy e tramite loro quindi consegnare o far consegnare, forse è il caso di dire, i doni ai bambini ricoverati. Successivamente poi andremo a trovare i nostri amici di Manfredonia, del gruppo motociclistico che ci attende, per un'altra consegna di doni presso l'associazione Il Delfino di Manfredonia. Voi siete stati già a San Giovanni Rotondo? Siamo stati già a San Giovanni Rotondo, siamo stati accolti egregiamente dalla cittadinanza, abbiamo ricevuto la benedizione dei caschi, è stato emozionante, è stato veramente un bel momento. Noi come associazione, come gruppo libero di motociclisti ci chiamiamo la Brigata Mass, cerchiamo di portare un sorriso, un momento di gioia a chi è meno fortunato di noi. I bambini sono il nostro futuro, le nostre più grandi risorse, con i giochi, con dei doni cerchiamo veramente di rendere un momento per loro, di regalare un sorriso e questo è il nostro intento. La nostra volontà va nei riguardi delle sensibilità, già che ci siamo occupati anche degli animali o degli anziani per dirti, quindi probabilmente le nostre volontà, i nostri interessi come Brigata Mass vanno nei riguardi delle sensibilità. Allora sfatiamo un tabù, molto spesso si pensa che chi va in motocicletta è un cattivo ragazzo che dà un ottimo esempio però, siate voi bravi ragazzi allora a quel punto, noi diamo l'esempio da cattivi ragazzi, già che lo dovremmo rappresentare in qualche modo, no sì, assolutamente sfatiamolo, non è il numero di ruote che dà in qualche maniera la bontà d'animo o la cattiveria dello stesso, due, tre o quattro ruote non influenzano, non influiscono sull'animo, è qualcosa di diverso, anzi se vogliamo forse, non so se siete d'accordo, io credo che il motociclismo in qualche maniera, che è una tradizione che si tramanda dai cavalieri a cavallo, oggi magari, ecco, Brigata motorizzata, oggi a cavallo di motori, restano comunque dei cavalieri, legati a degli ordini, a delle regole, probabilmente mai scritte, ma sempre regole che vengono rispettate. Si svolgerà regolarmente nel pieno rispetto delle misure anti-covidi il corteo dei magi previsto a Lucera, seppure ridimensionato la manifestazione con i suoi figuranti partirà alle ore 17.30 verso Piazza Duomo, dove saranno consegnati i doni e dove sarà possibile immergersi nell'atmosfera di un grande presepe, sicuramente uno dei pochi eventi salvati dalle forbici covid. Siamo contenti di essere riusciti in qualche modo a mantenere questo evento, che è quello forse che ci dà la possibilità di chiudere in bellezza le festività natalizie, sia dal punto di vista di partecipazione agli eventi religiosi, ma soprattutto per noi, che poi in qualche modo abbiamo speso le nostre energie in quello che è l'aspetto artistico e culturale degli eventi fatti in tutto questo periodo. Il corteo dei magi con dei musici itineranti che arriveranno in Piazza Duomo, dove ci sarà la consegna dei doni. È tutto in maniera ristretta rispetto all'idea iniziale che prevedeva la partecipazione di animali, della corale Santa Cecilia che sarebbe esibita in piazza. E quindi invece adesso sarà tutto un pochettino più ristretto perché è giusto anche rispettare le regole ed è giusto osservare quelle che sono le indicazioni per gli eventi dal vivo. Cercheremo e ce la metteremo tutte e ce la faremo a non creare problemi di sicurezza e di contagio perché sono stati attivati tutti i controlli e tutte le attenzioni necessarie per questo. Vi aspettiamo al nostro evento e speriamo che questa possa essere anche un'attenzione e una speranza per una buona ripartenza.